Non bastavano le operazioni di adulterazione o taroccamento dai vini alla mozzarella o le finte soluzioni del tipo le etichette dell'olio extravergine. Se non si pone mano in fretta ad un qualche sistema capace di garantire la tracciabilità a tutti i livelli, sull'agroalimentare italiano rischia di scaricarsi un serio problema di credibilità. Fra DOC, IGP, DOP eccetera, le nostre produzioni dovrebbero essere tutelate e in gran parte lo sono realmente, ma il sistema paese sembra non essersi ancora reso conto del valore assoluto dei sistemi enormi e immaginati per garantire la nostra salute attraverso alimenti correttamente prodotti e come tali messi in vendita. I controlli e sequesti che settimanalmente riguardano l'enogastronomia sono una dimostrazione concreta che c'è almeno una legislazione che ci difende, sia pure solo in parte, e il consumatore può essere libero da abusi e truffe. Se però ci si discosta dall'area dei prodotti garantiti da consorzi che vigilano sul rispetto delle regole, purtroppo a volte con qualche eccezione, pensiamo solo allo scandalo di Brunellopoli di due anni fa, la confusione è ormai grande e coi tempi che corrono, con la crisi che riduce la capacità di spesa, rischia di diventarlo ancora di più. Ad accrescere l'incertezza è in particolare la mancanza di criteri di comunicazione e informazione capaci di dare certezze e non già solo emozioni o illusioni ideologiche. A preoccupare in particolare la bizzarra contrapposizione tutta italiana, fra i sostenitori, pochi in verità, delle occulture OGM e chi si rifugia invece nel sogno del chilometro zero, che piace a tanti anche in assenza di qualunque certezza. Ad unire questi due fenomeni è in particolare l'assoluta mancanza di garanzie di informazioni certe che li contraddistingue. Nel primo caso è stato lo stesso neoministro delle politiche agricole, che non è pregiudizialmente contrario alle ricerche scientifiche in agricoltura, anzi. È stato lui, dicevamo, a sottolineare la mancanza di chiarezza, rintuzzando le polemiche di alcune aziende pro-GM che lo contestavano per presunte mancate risposte del Ministero a domande, tutte in fotocopia, dalla Lombardia al Friuli, per poter utilizzare sementi ritoccate. La risposta di Galà non poteva che essere un no al momento, perché c'è troppa genericità in documenti che invece, anche per precise disposizioni europee, dovrebbero essere il più osorienti possibile su tutto, per garantire tutti, come dire che non ci si può fidare di sia pur buona intenzione. Ma il problema di informazioni precise, e quindi di garanzie, vale anche per la gran parte dei prodotti a chilometro zero, su cui Ministero e Regioni dovrebbero intervenire con urgenza per favorire un progetto invece positivo sul piano teorico, ma che oggi è di fatto totalmente senza controllo e affidato solo all'onestà di singoli produttori, fra i quali, purtroppo, ce ne sono alcuni che acquistano ai mercati generali articoli che poi spacciano per propri, rincarandoli, anche se magari hanno fatto mille chilometri di strada. E anche quando sono prodotti in loco, non si sa con che diserbanti, concimi o additivi sono stati coltivati. Eppure, basterebbe adottare alcune semplici norme di tracciabilità, aiutando i produttori, magari consorziati, ad elevare così la loro credibilità e la qualità. Come dire che alla fine è tutta una questione di trasparenza e informazione che va risolta al più presto, altrimenti continuerà anche il bel giochino per cui in Italia non si possono fare coltivazione OGM, ma facciamo la migliore pasta del mondo, pensiamo solo a quelle di Gragnano delle Marche, utilizzando però il grano canadese che notoriamente non è OGM free. Grazie. Grazie.